Benvenuti a TgPro, appuntamento settimanale con le notizie dalla provincia di Ancona, un secolo e mezzo di storia politica e amministrativa dell'ente raccontato attraverso le biografie dei Presidenti dal 1861 ai nostri giorni. È il volume promosso dalla Presidente Patrizia Casagrande per celebrare il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia e il centenario dell'Unione delle Provincie Italiane, presentato alla Prefettura di Ancona alla presenza del Presidente Nazionale dei Lupi, Giuseppe Castiglione. Il progetto è stato realizzato grazie al contributo scientifico dell'Istituto Storia Marche, diretto da Massimo Pappini, il quale ha curato le ricerche assieme a Marco Severini dell'Università di Macerata. Quella delle Provincie è una storia di grande carattere e di grande portata storica appunto, la cui importanza troppo spesso viene messa in discussione in relazione a una facile discussione che riguarda la volontà di fare a meno delle province legata a un dibattito non sempre consono, invece alla figura che via via questo ente ha rappresentato e costituito. Ricordo solo in presenza della crisi economica il grande contributo che le province di tutta Italia, non solo quella di Ancona, hanno dato facendosi carico di un'importante condivisione con il territorio, con i comuni di questo fenomeno e facendosi anche interpreti con le Camere di Commercio, con le Prefetture, con la Regione delle iniziative che hanno più volte messo in campo anche con grande successo. Il libro è strutturato con, dopo la prefazione della Presidente attuale, due introduzioni storiche, una di Severini che riguarda il periodo dall'unità d'Italia al fascismo e una seconda mia praticamente dal metà del secolo scorso fino a oggi. Poi vi sono le schede biografiche, poi vi è un appendice documentaria con alcuni documenti significativi e più va bene le solite rubriche finali, l'indice dei nomi, eccetera. Nel momento in cui si discute al Senato della Repubblica la nuova carta delle autonomie, cosa faranno le province nel futuro, chi fa che cosa, cosa faranno i comuni, le province, le città metropolitane, le regioni, ma soprattutto nella nuova stagione del federalismo, della nuova responsabilità degli amministratori. Oggi un'opera come questa fa pensare anche alla qualità della classe dirigente che ha guidato questa provincia, che ha amato questa provincia e soprattutto che ne ha interpretato le istanze e ha guardato sempre al futuro. A margine del convegno poi, i Presidenti Casagrande e Castiglione si sono recati in visita al Museo Tattile Omero, una delle migliori eccellenze culturali della regione, nata per promuovere la crescita e l'integrazione culturale dei minorati della vista e diffondere tra essi la conoscenza della realtà. È in costante diminuzione il numero dei cani ospitati nelle strutture comunali della provincia di Ancona. È quanto emerge dal rapporto annuale sul randagismo presentato dall'assessorato all'ambiente che ha monitorato la situazione dei 10 canili del territorio, di cui 3 pubblici e 7 privati. Nel 2010 gli animali ospitati nei canili sono stati 855 contro i 1033 del 2008 e i 935 del 2009. Oltre ai cani che hanno trovato un nuovo padrone, a beneficiarne sono state le casse comunali con una spesa annua di gestione andata progressivamente diminuendo e passata dal milione di euro del 2008 agli 820 mila euro del 2010. Positivo anche il dato delle adozioni che si attestano su una media di circa il 26%. Cifra su cui incidono anche alcuni progetti varati dalla provincia di Ancona come il portale Fidomicio e lo sportello telefonico per i diritti degli animali a cui da oggi si aggiunge un nuovo strumento di comunicazione e di incentivazione, il blog collocato all'interno dell'omonimo sito. L'Italia ha aderito alla convenzione di Strasburgo per cui abbiamo l'obbligo di trattare gli animali in maniera adeguata, di non provocare loro dolore e angoscia. Per fare questo dobbiamo far sì che il randagismo diminuisca, quindi maggiore attenzioni e maggiori interventi anche normativi da parte della regione, ma servono anche rapporti corretti dei cittadini con gli animali. L'Istituto Comprensivo Gigli di Monte Roberto, la scuola primaria Ragnetti di Cartoceto e l'Istituto Comprensivo Urbani di Maiolati Spontini sono le scuole classificatasi rispettivamente al primo, secondo e terzo posto della graduatoria regionale del concorso nazionale BIMBOIL. Ideato dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio per promuovere la conoscenza e l'utilizzo dell'olio extravergine d'oliva fin dall'età scolare, il concorso ha avuto come tema Olio Reporter, i piccoli cronisti dell'olio. Vi hanno partecipato circa 300 alunni in rappresentanza di otto scuole primarie della regione Marche che si sono cimentati nel lavoro del giornalista. Da segnalare inoltre che il lavoro dell'Istituto Comprensivo Gigli si è classificato al terzo posto della graduatoria nazionale. Il risultato è un momento importante per la promozione dell'olio che realizza la provincia di Ancona, l'Associazione Città dell'Olio per far conoscere questo prodotto anche alle giovani generazioni. Crediamo che questo sia un modo utile per entrare in contatto con i ragazzi e entrare in contatto con tutto il mondo della scuola per promuovere questo prodotto che è un po' una nostra eccellenza alimentare. Questa era l'ultima notizia, vi salutiamo e vi diamo appuntamento la settimana prossima. Buona giornata!